eccoci nel centro di campagnano abbiamo appena iniziato la nostra tappa anzi il nostro anello della via francigina oggi con nomos ci porterà nei dintorni di campagnano per circa 21 chilometri sulla via francigena nello di campagnano ricordiamo questo è il secondo gruppo oggi siamo in tanti il primo gruppo con marco e avanti e noi siamo leggermente dietro con l'altro marco e adele l'ombra sulla francigena ecco qua siamo a metà anzi poco meno della metà abbiamo fatto sette chilometri piccola sosta per bere giornata strepitosa sulla francigena anello di campagnano con nomos trek ecco il basolato della via amerina abbiamo raggiunto l'incrocio e adesso faremo una parte di via merina per chiudere un anello di campagnano insomma calcolando che abbiamo fatto circa 12 chilometri siamo poco oltre la metà di questo splendido percorso sempre con nomos nomos associazione nomos ecco adesso siamo fermi al bilo per poter ripartire ecco la parte veramente wild questo trazzo di via merina abbiamo guardato praticamente un fiume il tratto all'aperto della via merina sempre procediamo nel nostro anello giornata veramente strepitosa ecco la visione io ho ho le l'apertura 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 e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Passato il guado riprendiamo la via verso Campagnano. Ripeto, via Amerina, anello Francigena Amerina, 21 km Campagnano con associazione Nord. Ecco il gruppo Nomos che si avvicina sempre di più all'arrivo a Campagnano. Abbiamo percorso quasi 19 km. Eccoci all'ingresso di Campagnano, 21 km, la mia ombra sulla fine della tappa, grande anello con Nomos. Eccoci mascherati alla fine della tappa. Ripeto, anello Campagnano, 21 km via Francigena e via Amerina. approcci. E questo è un Danio Campagnano. Grazie a tutti.